Si chiude con 49 d'aspo la contesa tra tifoserie di Varese e Napoli, che solo la pronta reazione della polizia ha evitato degenerasse. I fatti risalgono al 4 maggio, quando la festa dei tifosi partenopei fu rovinata dalle aggressioni organizzate dagli ultra del Varese. Dieci giorni dopo la questura bloccava alle porte del capoluogo un corteo di veicoli carichi di ultra napoletani, evitando che raggiungessero il centro con finalità violente. Ed ecco scattare i divieti di partecipazione agli eventi sportivi. 24 a carico dei Varesini, 25 per i campani. Misure severe, comprese tra i due e gli otto anni, alcuni con obbligo di firma. Le autorità ritengono che l'aspare rivalità risalga al 2018, quando gli scontri di San Siro costarono la vita a Dede Bellardinelli, figura di spicco del tifo Varesino.